mister cammarata iniziamo con un complimento per il successo di ieri contro la roma capolista che partita è stata beh una partita perfetta perché giocare contro la roma che 55 punti prima in classifica è stato un piacere vedere i ragazzi fare la partita perfetta vincere meritatamente oltre tre gol potevamo fare anche altri gol sono contento per loro perché tutto il lavoro che fanno durante la stagione ieri si sono visti i frutti però questo deve essere un punto di partenza parlando di punti di partenza arriviamo a un punto d'arrivo il pescara calcio nella volata finale dove pensa potrà arrivare dove adesso può solo che migliorare secondo me perché dobbiamo pensare sempre positivo il playoff è un traguardo importante e quindi dobbiamo arrivare lì e poi sperare che assieme a tutti tutti i tifosi possa portare il pescara in serie a campionato lungo la b lei ha giocato dieci anni fa più o meno cosa ne pensa cosa occorrerà per arrivare e centrare magari una promozione beh la serie b si decide si dice sempre che si decide a marzo quando sei nelle prime posizioni a marzo e primavera si decide sempre il campionato è un campionato difficile estenuante proprio che fino all'ultima giornata devi 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 crederci però il pescara ai mezzi perché ha dei giocatori importanti che che in serie b possono fare la differenza